YOLANDA SWITZ con cui si scrive quindi significa neve ma in base al kanji che cambia significa anche felicità fate una ricerca su internet e vedrete che c'è una e lei è la nostra felicità e lei è la nostra felicità ecco perché l'ho chiamata Yuki vero vero patatina vero sì quanto è così carina cosa c'è un momento scarolino ok allora oggi Yuki sceglierà gli ingredienti sì è buono Daniele con l'ausilio di Daniele perché la manterrò ovviamente ragazzi questo video è sicurissimo non mi preoccupate non sono così stupita allora prima di tutto Yuki cosa dovrà fare Yuki cosa c'è allora Yuki dovrà scegliere gli ingredienti del mio slime allora Yukina cara Yukina allora cosa vuoi la colla vinilica o quella trasparente 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 ha sdifato la trasparente mamma mia lei subito hai fatto subito va bene Yuki allora mettiamo mi lecca la felicità mettiamo quella trasparente da sei stata tu brava scegliere quella trasparente anche io avrei scelto quella trasparente diciamoci la verità allora adesso vado a prendere queste due allora Yuki cara Yuki quale vuoi scegliere vediamo la gialla no la gialla prendiamo la gialla quanti odori la colla la colla glitterata gialla Daniele mi passi il gorotalco o no anzi ho la schema da barba o la crema uno e due allora Yuki dai quale vuoi questo la crema la crema oh mio dio oh mio dio è bellissima così io la la faccio ok Yuki ha scelta la crema ne mettiamo un po' ne mettiamo un po' ragazzi io la amo veramente è troppo bella come si fa a non volerle bene piccadona è troppo carino poi vediamo tra queste due cose sono tra gli sprinkles o le palline palline hanno vintissimo a noventissimo bravo si brava subito erano quelle che volevo io bravissima 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 brava brava Yuki attenzione non ti scoccio no non mi scoccio e noi metto poco 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 ho detto dentro lo slime brava Yuki brava ah vorrevo precisare che Yuki qua praticamente non entra mai questa porta è sempre chiusa perché ovviamente ho le mie cose per lo slime eccetera eccetera quindi questa zona off limits questa zona lei non entra mai 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 a meno che non la teniamo in braccio e quindi ce la portiamo tipo adesso tipo adesso allora facciamo una cosa scegliamo tra i due io Yuki mi raccomando scegli bene e sarà più intensa su questa qua no perché per me ha odorato più la rossa si lo so ma diventa rosso perché perché la red velvet è rossa perché questa è un è un'essenza mio dio ma che è guarda Yuki guarda oddio oddio ragazzi è diventato completamente rosso vabbè lo slime è rasparente rosso oh mamma mia wow adoro ma è bellissimo ok adesso vediamo Yuki vediamo se mi devi far mettere queste due vediamo un pochettino allora questo slime lo chiamiamo lo slime di Yuki Yuki slime eeeh è andato sulle fishbowl le fishbowl istantaneamente proprio ti piacciono sono coloratissime si bacino brava brava Yuki brava allora ti piacciono queste va bene mettiamo le fishbowl bravo i glitter proprio non ci piacciono non è tipa da glitter ho detto io voglio le mie fishbowl va bene ok allora mettiamo le fishbowl dentro lo slime ciao Yuki è carina bacio una tigrona bellina brava bacio brava appena le dico bacio subito è pazzesca è intelligentissimo allora vediamo Yuki mi raccomando scelgi bene mi stai sbavando tutta la fetta adesso però voglio che tu scegli bene oh è baciosa quale vuoi da questi due non me se no scegli non li metto hai ragione no hai ragione ha detto no hai detto no guarda non li metto nessuno di tutte e due mi fai mi fai solo un piacere bacio brava brava quindi Yuki ha rifiutato allora Yuki ha rifiutato sia il bagno schiuma e sia la eeeh in modo si è svegliata in un'altra volta sonno incredibile Yuki ha rifiutato sia il bagno schiuma sia eeeh come si chiama il borotalco allora facciamo quest'ultima scelta Yuki no aspetta lo sto mozzicando aspetta questo il morsetto ha detto il morso ragazzi no proprio assoluto proprio assoluto allora devo mettere gli anellini i bigodini i bigodini tagliati allora anellini ne metto un pochettino mamma mia Yuki mi hai fatto mettere l'impossibile mi fa su posto cosa diciamo le tappe quello se nemmo Yuki deciderei eh giusto vabbè c'è ragione c'è ragione allora mettiamo che dopo deve fare anche la pappa questa monella eh allora Yuki allora Yuki devi fare la pappa si ok facciamo una cosa ti faccio scegliere l'ultima cosa e scegli bene no la verde no no è la viola che ha leccato ha leccatissimo la viola ha leccatissimo la viola ha leccatissimo la viola va bene questa la vado a mettere alla fine allora facciamo una cosa Yuki nel frattempo Yuki si fa una mezz'oretta nel frattempo che Yuki si fa una mezz'oretta io vado ad addensare lo slime allora ragazzi Yuki nel frattempo è andata a riposarsi piccolina preferisco che ehm esca dallo studio così almeno si va a riposare adesso invece andiamo ad addensare quindi lo slime che ha fatto Yuki mettiamo però io vi do un consiglio quando per esempio addensate con la soluzione di bicarbonato io vi consiglio di diluire prima il bicarbonato nella soluzione e poi eh mettere la soluzione stessa mettiamo la soluzione così adesso io l'ho fatta per una questione di praticità mettere direttamente il bicarbonato però vi consiglio comunque di diluirlo prima all'interno della soluzione questo qua sarà lo slime Yuki volete un altro video magari con Yuki anzi raggiungeva un sacco di like per questo video ragazzi e vi farò il video dove Yuki incontra Teo chi è Teo e molti sono chiesti Teo è il cane di mio fratello io l'ho chiesto chiedendo a Matteo che fine ha fatto Teo non è il mio cane Teo è il cane di mio fratello perché mio fratello vive in un'altra casa non vive qui e quindi si è preso il cane e si chiama Teo quindi vorreste il video dove si incontrano tutti e due proprio in love in amore chi lo sa che reazione avrà Yuki quando vede Teo per la prima volta secondo me non so perché ma positiva anche Teo è un beagle i beagle di solito sono molto più vivaci dei bassotti quindi può essere che avrà o una reazione negativa o positiva chi lo sa comunque lo slime sta avvenendo eccolo qua questo sarà lo slime di Yuki oh che bello mamma mia lo slime felicità comunque vi ripeto si Yuki significa anche felicità in base al modo in cui si scrive quindi cercatelo su internet poi mi fate sapere allora eccolo qui lo slime eccolo lo slime di Yuki oh voilà che bello è stramorbido d'altronde ok adesso vabbè può darsi che ci sta bene però è molto molto crunchy a quanto pare lo slime di Yuki che bello e adesso mettiamo la cleviola perché Yuki ha scelto la cleviola e vabbè quello che sceglie Yuki è è sacro per me quindi mettiamo la clay e l'andiamo ad aggiungere così io lo so dovrebbe uscire un rosino violino vediamo so solo che sicuramente esce un bellissimo slime vi faccio un pochettino di smr con lo slime di Yuki dai ok ragazzi spero tantissimo che questo video vi abbia divertito e che vi sia piaciuto come avete visto comunque assolutamente le cose erano tutte ovviamente pulite e disinfettate e niente Yuki quindi il mio bellissimo cagliolina il mio bellissimo cagliolina ha scelto gli ingredienti del mio slime ed è uscito questo slime qui l'odoro bellissimo è rosa come la mia maglietta come i miei capelli come lei tutto femminuccio fantastico va bene ragazzi grazie mille a tutti per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto e che vi abbia divertito tantissimo se volete il video dove Yuki incontra Teo mi raccomando tanti pollici in su 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 arriviamo a 8000 like per questo video mi raccomando io vi mando un bacione enorme un abbraccio fortissimo e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14.30 in un nuovissimo video bye bye